Allora, pochi giorni fa avevo pubblicato qualcosa sul mio account Instagram, sì, ho un account Instagram piccolino però, insomma, lascio tutto in descrizione poi. Ho pubblicato un post riguardo agli ecosistemi, in cui spiegavo che cos'è un ecosistema con, insomma, parole semplici, non che io sia poi tutta questa parlantina, insomma. E oggi volevo spiegarvela in un modo un po', cioè, facendoci un video sopra. Quindi, allora, che cos'è un ecosistema? Un ecosistema è un insieme di componenti che possono essere suddivise in due tipi. Le componenti biotiche, che sarebbero gli esseri viventi, quelli che poi vanno a formare la comunità dell'ecosistema, e le componenti abiotiche, ovvero le cose che non sono vive, come il terreno, i minerali che sono nel terreno, l'acqua, l'ossigeno, l'anidride carbonica, l'azoto atmosferico, insomma, queste cose qua. Però non sono solamente queste componenti che formano l'ecosistema, infatti l'ecosistema si viene a formare solamente quando poi vi è un'interazione fra queste due componenti, cioè quando gli esseri viventi interagiscono con quelle che sono le cose non vive. Infatti, prima che comparissero gli esseri viventi, c'era il ciclo geochimico, quindi ovvero tutta una serie di processi chimici che portano alla formazione di nuove molecole, partendo da altre. Però questi componenti non passavano attraverso gli esseri viventi, solo poi, quando sono comparsi i primi batteri, si è cominciato a formare questo nuovo ciclo, il ciclo bio-geochimico, ovvero che vede al suo interno anche gli esseri viventi che partecipano in questo scambio di molecole, insomma. Un esempio di interazione lo abbiamo con le piante, per esempio. Loro hanno bisogno di sali minerali che sono presenti nel suolo, per cui qui abbiamo un'interazione tra pianta e suolo, tramite le radici, e un'interazione sempre con le radici, cioè tra pianta e sale minerale. Poi questo sale minerale, tramite la pianta, passa poi a quelli che sono i consumatori primari, gli erbivori, perché loro si nutrono nella pianta, per cui i nutrienti passano da loro. Poi da loro ai consumatori secondari, ovvero i carnivori, che stesso gioco, loro si nutrono dell'erbivolo, per cui acquisiscono questi nutrienti, questi sali minerali. E poi, tramite la loro morte, questi ritornano all'ecosistema. E questo è quello che è il ciclo dei materiali. Ora però, neanche queste interazioni e questi cicli riescono a mantenere in vita un ecosistema. Infatti c'è bisogno di una fonte di energia, che per buona parte degli ecosistemi che sono sul nostro pianeta è rappresentata dall'energia luminosa proveniente dal sole. Le piante, le alghe e alcuni batteri riescono a catturare questa luce e a trasformarla da energia luminosa a energia chimica, formando materia organica, che poi viene passata a tutti gli altri organismi degli ecosistemi per il stesso ciclo, tramite la catena trofica o la catena alimentare. Però ci sono alcuni ecosistemi che non sono a contatto con la luce del sole. Pensate per esempio agli ecosistemi avvissali, negli abissi marini, quelli a centinaia di metri di profondità, che non riescono a ricevere la luce del sole. In questo caso abbiamo altri tipi di energia, come per esempio l'energia chimica. Qui ci sono organismi, per esempio dei batteri, che sono in grado di trasformare delle molecole in altre, tramite un processo chimico che viene al loro interno, in modo da così da produrre energia. E poi questi organismi diverranno cibo per altri organismi. E anche qui si forma un ciclo come lo vediamo per gli ecosistemi di superficie che sono a contatto con la luce del sole. E qui la cosa si complica un po', perché noi non dobbiamo vedere gli ecosistemi come parti separate del mondo che non interagiscono tra di loro. In effetti loro continuamente hanno delle interazioni, non soltanto per il fatto che confinano l'uno con l'altro, ma anche perché si scambiano delle risorse. Un esempio che ci faceva il nostro professore all'università era quello di un animale che moriva a casa della piana di un fiume e il suo corpo veniva trasportato giù a valle, dove c'era un altro ecosistema. E lì, se questa carcasta poi si fermava, veniva lì decomposta e dunque le sostanze che conteneva il suo interno venivano lì utilizzate, in primis dagli organismi decompositori. Ma un altro esempio che possiamo vedere abbastanza facilmente, anche tramite video su YouTube, è il caso della polvere marina, della neve marina mi pare che si chiami. C'è quel fenomeno per cui noi abbiamo degli ecosistemi superficiali nei mari, e qui avviene la maggior parte della produttività, proprio perché abbiamo queste alghe, questo fitoplancton, che producono materia organica grazie alla luce del sole. Ci sono organismi che si nutrono di questi produttori e poi loro rilasciano tramite i loro escrementi i rifiuti e questi vanno a depositarsi verso il fondo, dunque viaggiano attraverso la colonna d'acqua, arrivano giù in fondo dove non c'è la luce del sole e questi vengono poi sfruttati dagli organismi che sono lì come fonte di nutrimento. E qui abbiamo un perfetto esempio di connessione fra due ecosistemi diversi, che però dipendono in un certo modo l'uno dall'altro. E questo fatto, cioè, che se tu non utilizzi una cosa, la utilizzi un altro, è molto importante perché altrimenti l'ecosistema non riesce ad andare avanti. Cioè se tu accumuli una certa risorsa che nessuno sfrutta in un certo luogo e tu comunque continui a produrre questo rifiuto, alla fine le risorse con cui produci questo rifiuto finiscono. Per cui se nessuno si occupa di riutilizzare questa materia, alla fine l'ecosistema collassa. E' quello che potrebbe succedere, cioè che succede in realtà, anche con noi, con tutti i rifiuti che noi riutilizziamo. E fortunatamente l'evoluzione, dopo milioni e milioni di anni di lavoro, riesce di solito a progettare degli organismi che sono in grado di sfruttare questa grandissima fonte di risorse, per cui tende a non formarsi però troppo a lungo in periodi geologici, però una fonte di energia così alta, perché alla fine c'è sempre qualcuno che ne approfitta. Proprio perché, cioè, arriva questo organismo, si trova lì questa montagna d'oro, quello che farà è, cioè, prosperare all'inverosimile, sfruttando questa risorsa. Poi c'è la questione un po' più complicata, dipende da moltissimi fattori, come per esempio chi ci dice che quell'organismo sopravvive, magari gli cade una metà ora in testa e muore, insomma, il gesto vuol dire. Comunque è così, ragazzi, la natura non accetta che vi siano degli sprechi e noi affronteremo le conseguenze nel modo più brutale possibile che la madre natura riesca a concepire, come è giusto che sia in realtà. Ho approfittato di fare, cioè, di questo video, anche per introdurre questo argomento, ma non andrò qui ad esaminarlo, lo farò poi in futuro. Comunque, ragazzi, grazie per avermi seguito e noi ci vediamo al prossimo video. Comunque, ragazzi, grazie per avermi seguito